TG Sport Molise centrare la promozione in Serie A2 è stata l'occasione per incontrare e parlare di sport con i due candidati sindaci al comune di Campobasso che domenica prossima andranno al ballottaggio. Maria Domenica D'Alessandro che è andata al ballottaggio o no? Siamo andati al ballottaggio, adesso inizia un'altra partita e noi ce la metteremo tutta per avere il miglior risultato possibile, lo facciamo con tutto l'amore che abbiamo per la città di Campobasso e per i campobassani e speriamo di convincerli della bontà del nostro progetto e del nostro programma per la nostra città. La mia vita è stata praticamente lo sport, spesso da parte delle istituzioni non c'è stata grande attenzione, la tua presenza qui al di là del fatto contingente, mi auguro che sia veramente l'inizio di un rapporto, comunque andrà voglio dire, perché noi facciamo l'imbocca al lupo a tutti. Sì, io sono stata anche proprio ieri al campo scuola dove c'era una bella manifestazione dei ragazzi, pure lì ho visto che con molto poco si potrebbe migliorare la qualità della vita di molti ragazzi che amano lo sport. La mia presenza qui non è solo di circostanza ma vuole essere anche un segno per dare molta più rilevanza allo sport e alla nostra città anche perché lo sport abbiamo dei progetti e potrebbe creare un grande indotto e quindi ridare vita alla nostra città. Infatti ci vuole alla fine il segreto di tutto è il progetto, l'attenzione e anche la concentrazione con cui poi si fanno le cose, no? Assolutamente sì, quindi sotto questo profilo saremo propositivi e daremo molto spazio allo sport perché lo sport è vita e soprattutto lo sport può portare i giovani ad allontanarsi da altre piaghe che sono molto più pericolose per loro, come la droga, come la ludopatia e anche l'abuso dell'alcol che anche da noi è una piaga vera. Roberto, gravina perché così noi siamo in assoluta parità anche sotto il profilo del tempo ma del resto credo che voi vi stimiate abbastanza e stimiate anche abbastanza Telemolise per sapere che noi cerchiamo di fare un'informazione quando il più possibile rispondente alla verità. Roberto, praticamente tuo fratello io l'ho premiato nell'89, era stato ceduto al Falconara e tuo padre lo conosco benissimo, tua madre l'ho conosciuta benissimo. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Maria Domenica, cioè sei contento intanto di questo risultato, di questo ballottaggio e come pensi di giocartelo? Allora, ovviamente contentissimo e grazie per le parole perché mi sembra il minimo che possa fare per quello che appunto è stato detto adesso. Contento del risultato, siamo fiduciosi di quello che potremo fare, chiaramente è una sfida aperta con la candidata, l'Alessandro, che insomma adesso vediamo, noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo un programma credibile, fattibile, adesso stare a noi in queste praticamente una settimana e mezzo riuscire a convincere i direttori di darci fiducia. Senti, l'ho chiesto anche a lei perché le istituzioni spesso sono un po', io ho vissuto una vita di sport, lo sapete molto bene, sono spesso distratte dal mondo dello sport, soprattutto dal mondo di una certa sinistra, io che vengo dal 68, capito, che ho fatto la rivoluzione culturale, sembra quasi che si guarda lo sport in maniera spocchiosa, no? Un attimo distaccata. Lei mi ha già risposto, non credo che sia così per te perché insomma, se no ti prendo veramente a scapaccioni, altro che elezioni. Allora, io porto un cognome impegnativo e lo hai ricordato e non ho mai voluto unire le cose perché è giusto tenerle distinte, però nello sport anche nel nostro programma c'è scritto tanto e sto cercando di convincere le persone a fare che cosa? La pratica sportiva tra l'altro è un antidoto naturale per quanto riguarda le dipendenze, di ogni tipo, quindi ci crediamo molto, dobbiamo anche rivedere quali sono le strutture del comune che attualmente sono gestite e questo insomma lo stiamo dicendo e in verità la cosa che voglio dire a chi ci ascolta l'abbiamo fatto anche in questi cinque anni in Consiglio Comunale. Io adesso ho di fianco Maria Domenica, le voglio dire che quelle poche volte che ho sentito fare critiche sul nostro operato e forse è stata un po' distratta perché ci siamo stati molto attenti alla gestione delle strutture comunali e a quello che probabilmente non si è fatto. Siamo adesso pronti, sappiamo dove intervenire e sappiamo anche come promuovere la pratica sportiva in tutti i sensi con un assessorato chiaramente che si occuperà di questo, però voglio sottolineare una cosa, quando si parla di sicurezza, attenzione perché le dipendenze, mi riferisco in particolare all'emergenza, diciamo dipendenze droghe, si combattono soprattutto allontanando i ragazzi e impegnandoli e la pratica sportiva forse, ripeto, il miglior antidoto possibile. Prima l'ho detto anche a lei, puoi rispondere Maria Domenica a quello che ha detto lui? Ma no, non voglio polemizzare, sinceramente voglio ribadire il concetto che i giovani devono essere allontanati da queste piaghe assolutamente con la pratica sportiva, questo lo ribadiamo, siamo tutti d'accordo su questo. Ecco, io una cosa che posso dire a tutti e due, occupandomi di sport da sempre, che tu ti riferivi alle strutture, quelle tenute meglio sono quelle date in gestione, è un'informazione che vi dà un elettore di Campobasso senza particolari meriti, insomma però se ne tenete conto vedrete che insomma chiunque di voi verrà eletto potrà veramente partire da una base, da una base importante. Ma infatti nessuno mette in discussione il fatto che l'affidamento a terzi, quindi la gestione come ricordava sia sicuramente la soluzione migliore, l'importante è che il Comune non perda mai il controllo sulle strutture che ha affidato, perché è chiaro che l'azione di controllo... Alberto, ma la gestione significa che non lo perdi il controllo, perché lo dai in gestione ma sei sempre tu il proprietario. A volte siamo stati come amministrazione un po' troppo, diciamo così, distratti nella verifica della gestione e in questo senso saremo molto attenti. Maria Domenica, allora, siamo pronti? Anzi, siete pronti? Come lo vivete, insomma, lo stato d'animo qual è? No, lo viviamo bene, nel senso che penso siamo animati dall'amore per la città e quindi dobbiamo, per amore dei cittadini, affrontare anche questa sfida e saremo propositivi e cercheremo di fare il meglio. Quindi un saluto grande ai cittadini. Tu, Roberto, che dici? Stiamo facendo quello che abbiamo fatto fino, insomma, da un mese e mezzo a questa parte. Stiamo cercando di far conoscere il programma, dimostrando di conoscere molto bene la città, di conoscere i problemi, di conoscere anche le soluzioni. L'abbiamo messo nero su bianco. Insomma, bisogna crederci, avere fiducia nella novità e soprattutto nella possibilità di rinnovare il Consiglio Comunale in modo importante. Va bene, allora, in bocca al lupo, per una questione proprio a Maria Domenica, in bocca al lupo a Roberto, magari fatevi anche voi un in bocca al lupo reciproco. Assolutamente. No, perché, insomma, siamo tutti persone civili, quindi in bocca al lupo ad entrambi e comunque, voglio dire, andrà per il vincente e per il perdente. Troverete sempre spazio a Telemolisse, questo ve lo prometto io. Va bene? In bocca al lupo. Il Cus Molise ha vinto dunque la finale play-off contro l'Eta Beta Fano e dopo 16 anni torna in serie A2 al Palahunimol davanti al pubblico delle grandi occasioni, circa 800 gli spettatori. I 40 minuti sono terminati 3-1, tripletta, nemmeno a dirlo, di Barrichello. Il CLN Cus Molise di Marco Sanginario del presidente Rivellino scrive la storia battendo 3-1 nella finale di ritorno l'Eta Beta Fano e a Proda, così in serie A2. Un vero e proprio miracolo sportivo, un'impresa, quella scritta dai Campobassani con la collaborazione di Barrichello che in finale realizza appunto 3 gol dai Campobassani che, pensate un po', erano partiti con l'obiettivo della salvezza e si ritrovano adesso nella categoria superiore. Andiamo con la rassegna delle azioni al secondo taglio di Everton. Tocco morbido dello stesso Barrichello e il Cus Molise già passa in vantaggio di fronte ad un pubblico nutrito, probabilmente anche più di 800 i presenti al Palahunimol. Siamo al quinto, c'è la replica ospite dell'Eta Beta Fano con il tiro di Beisi, tuffa Roman e para. Siamo al nono, esce il portiere Bacciaia, recupera la palla a Barrichello che effettua subito un pallonetto che termina alto sopra la traversa. Siamo all'undicesimo minuto, Copparoni chiuso bene da Roman, poi cade in area lo stesso numero 4 del Fano, ma non viene giudicato falloso l'intervento del portiere Cussino. Al dodicesimo, destro da parte di Di Stefano che termina a lato, la partita vive delle fasi di grosso equilibrio. Quattordicesimo, Barrichello, tiro cross, non ci arriva Campanella davvero per poco ad una deviazione che avrebbe provocato davvero grossi problemi. Alla porta marchigiana, quattordicesimo e trenta secondi, destro a lato di Barrichello e l'ultima azione di un primo tempo che si chiude sull'uno a zero in favore dei Cussini. Siamo nella ripresa con le immagini di Loreto Cerasuolo al terzo, tiro centrale di Bei del Fano ben abbrancato da Roman, mentre al quarto minuto e trenta secondi c'è il tiro a lato da parte di Barrichello. Siamo nelle prime battute della ripresa, al quinto, quando Everton guadagna palla in maniera regolare su Copparoni, mette in mezzo per l'appoggio in rete da parte di Barrichello. 2-0 e tripudio al pala Unimol di Campobasso. Sembra davvero tutto fatto, quantomeno in discesa per l'approdo in A2 da parte della squadra di Marco Sanginario, ma tutto si riapre qualche secondo più tardi, quando c'è il tiro di Copparoni del Fano, la deviazione di Everton che beffa il portiere Cussino. Roman, 1-2. Partita riaperta e da qui in avanti il Fano farà soffrire abbastanza la squadra di Marco Sanginario. All'ottavo, Ciocia invito per Everton che si fa chiudere da Bacciaia. Dopo qualche secondo sull'altro fronte, il tiro cross da parte di Lorenzete termina a lato. Siamo nella fase clou del match. Al decimo è Petrella del Cusmo Lisi a tentare il colpo da biliardo, ma la palla sfila di poco a lato. Un minuto più tardi, undicesimo sinistro di Barrichello, parato in angolo da Bacciaia. Siamo nella fase decisiva del match, tredicesimo da Copporoni a Bei che fa secco un avversario e poi calcia fuori il possibile gol del pareggio. Qui davvero la squadra di Marco Sanginario tira un sospiro di sollievo. La squadra di Mariotti, il Fano, gioca adesso con la tattica del quinto giocatore di movimento, quindi senza portiere, quasi al diciassettesimo. Cioccia tu per tu con il portiere, si fa respingere il tiro da Bacciaia, mentre siamo al diciottesimo, quando Everton dà lontanissimo, con la porta sguarnita, calcia a lato. E anche qui c'erano stati momenti di tensione sugli spalti del Palaunimol di Campobasso. 45 secondi, dalla fine la risolve, neanche a farla apposta. Lo stesso Barrichello, che riguadagna palla, alza la testa e segna con la porta vuota. davvero ormai un abitué di questi gol molto complicati. 3-1, tripletta di Barrichello. Ormai la A2 è in tasca per la squadra di Marco Sanginario, ma a 26 secondi, dalla fine, Roman praticamente rinvia la palla dalla sua porta, ma la palla stessa termina a lato. Da una porta all'altra, ha tentato il gol anche il portiere, valido portiere Roman del Cusmo Lise. Dopo il triplice fischio dei due direttori di gara, davvero scoppia il tripudio al Palaunimol. Il Cusmo Lise scrive una pagina di storia a livello non solo di calcio a 5, ma a livello sportivo per la città di Campobasso. A proda in serie A2, dopo aver scalato posizioni, dopo aver guadagnato come primo obiettivo la salvezza, poi diventato come traguardo numero due, quello dei play-off, e nei play-off è riuscita a trionfare proprio la squadra di Marco Sanginario. Il Fano torna a casa senza nulla in tasca. Fano che aveva estromesso in maniera ingiusta la chaminade dalla competizione play-off, mentre il Cusmo Lise ed il suo staff si prepara a programmare la stagione in serie A2. Automobilismo Fabio Emanuele ha chiuso al quinto posto a meno due secondi dal primo, il diciassettesimo slalom dell'agro e ricino valido come terza prova del campionato italiano slalom. La gara è stata vinta da Castiglione su Formula Gloria, davanti a Benanzio e Gullotta entrambi su Radical, così come Schillace, quarto assoluto. Il driver molisano ha dovuto fare i conti con un problema alla ruota anteriore destra tra la prima e la seconda manche e poi nella terza salita con noi al cambio che non hanno consentito all'Osella PA 990 di rendere al massimo. Calcio di Serie D, il Campopasso definisce i dettagli della collaborazione con il Benevento a Diserne e a Biscotti attende l'incontro con il Sindaco. Si apre una settimana nella quale verosimilmente ci si attende novità sostanziali dai due capoluoghi Campobasso e Disernia. In Casa Rosso Blu le novità concrete sono rimandate verso il fine settimana. Ricordiamo che la stessa guida tecnica che i dirigenti Rosso Blu sarebbero orientati ad affidare a Pasquale Bovienzo di fatto ancora non è stata comunicata con ufficialità. Molto tutto dipende da un accordo con la società di appartenenza dello stesso Bovienzo cioè il Benevento una collaborazione di cui si parla molto in città e sulla quale sta lavorando in maniera intensa lo stesso direttore generale del Campopasso Filippo Polcino da qualche mese a questa parte. Un accordo che gioverebbe anche al prestigio della società Rosso Blu. Il direttore Polcino pare abbia avuto più di dieci incontri con il presidente del Benevento Vigorito. Sembra che davvero si sia arrivati alla stretta finale e che l'accordo si possa concludere a giorni. Ricordiamo che all'esito della collaborazione Vigorito non entrerebbe a far parte della società del Campopasso ma la partnership consisterebbe nella venuta nel capoluogo di una serie di under di un certo livello. Pare che anche la scelta di Bovienzo sia legata alla buona chiusura dell'accordo con la società giallorossa. Il nome di Pasquale Bovienzo è stato mirato da parte del Campopasso. Si tratta di un allenatore giovane molto motivato molto abile nel plasmare i ragazzi. si pensi al caso di Brignola un giovane casertano classe 99 oggi al Sassuolo ma fresco di debutto in Serie A avvenuto soltanto un anno fa nelle fila del Benevento. Brignola è stato allevato da Bovienzo nelle giovanili dello Stregone. Quanto all'organico il Campopasso dovrà ricostruire da capo la squadra un'opera non di poco conto ma ormai usuale nel capoluogo di stagione in stagione. Sarà così anche quest'anno quando a differenza degli anni precedenti le idee sono più chiare sembra che in società ci sia una lista di circa 50 nomi di giocatori che potrebbero fare al caso del Campobasso gli ultimi sono stati giorni di contatti intensi presi dalla dirigenza Rosso Blu con alcuni tesserati in molti verrebbero a giocare a Campobasso alla luce anche di una certa sicurezza economica che l'attuale società presieduta da Circelli ispira agli addetti ai lavori molti nomi sono top secret gli stessi giocatori sono anche abili nel giocare al rialzo qualora un nominativo dovesse essere diffuso per cui è nell'interesse di ogni società tenere molte trattative celate per un dato periodo di tempo si può ripartire dai due biennali sottoscritti l'anno scorso quelli di Jonathan Alessandro che si sta godendo le ferie a Barcellona e di Musetti che è stato visto sugli spalti del Panunimo il sabato scorso ad osservare la vittoria con conseguente ascesa dei Cussini in serie A2 ad ogni modo la dirigenza del Campobasso non vuole stopparsi ad un'eventuale molto gettonata collaborazione con il Benevento nei primi giorni di questa settimana sia Circelli che Polcino sono fuori sede proprio per cercare di pianificare e se possibile di realizzare altrettante amicizie con società professionistiche sembra che questa mattina Polcino fosse diretto al nord Italia per colloquiare con una società di rango l'obiettivo riguarda sempre i giovani di valore quelli in grado di rappresentare il valore aggiunto per chi cerca di tagliare traguardi importanti in serie D ad Isernia si naviga a vista in attesa di novità sul futuro che dopo la retrocessione in eccellenza non si prevede così roseo il presidente Biscotti proverà ad entrare in una fase operativa proprio in questa settimana quando dovrebbe essere in agenda anche un incontro con il primo cittadino di Isernia Biscotti insiste con forza su aspetti già messi in evidenza nel corso del campionato lo scarso supporto anche imprenditoriale intorno alla squadra e l'afflusso di pubblico allo stadio per numeri che sono stati complessivamente scarni a ciò si aggiunga anche il vizietto da parte degli osservatori di criticare senza agire sostiene il presidente Bianco Celeste un particolare quest'ultimo che certamente è anche poco incoraggiante per chi come Piero Biscotti dovrebbe ripartire dal campionato inferiore il vasto Girardi ha ricevuto dei riconoscimenti dalla FIGC Campania la formazione molisiana neopromossa in Serie D ha nelle proprie fila alcuni dei migliori giocatori campani i vertici della federazione hanno premiato Calcanni Di Lullo Simonetti Di Mauro il capitano Ruggeri ed il tecnico Farina quest'ultimo assente alla consegna dei riconoscimenti per motivi di salute una vera e propria colonia di giocatori della vicina campania a muovere le fila del vasto Girardi già da qualche anno a questa parte chiudiamo con l'Avellino che si è giudicato proprio ieri la pullo Scudetto contro il Lecco ai calci di rigore e sul neutro di Perugia la pullo Scudetto è una manifestazione che si gioca nelle settimane successive alla fine del campionato fra le nove squadre vincitrici della Serie D l'Avellino promosso in Lega Pro veniva da una serie incredibile di 16 vittorie nelle ultime 17 partite in Alto Molise l'Olimpia agnonese divisa tra scuola calcio e prima squadra professor Sica quanto riguarda quest'anno c'è stata la collaborazione sia della Prologo del Comune che da parte della FIGC sì tutti gli endici danno una mano per realizzare queste bellissime manifestazioni perché queste sono manifestazioni a 360 gradi in quanto noi facciamo tutto per quanto è in regola con la federazione che giustamente siamo sopportati soprattutto dalla partecipazione dall'aiuto della FIGC regionale e provinciale anche il Cone anche la Prologo e soprattutto anche il Comune di Agnone che ci dà una buona mano per poter realizzare queste manifestazioni che danno tanto lustro non solo al calcio agnonese e quindi alla polisportiva ma a tutto il territorio molisano e soprattutto alla bella città di Agnone Per quanto riguarda la prima squadra come tutti sappiamo ai noi si è conclusa con un epilogo amaro ci si è presto a vivere un'estate abbastanza rovente con forse qualche ombra di ripescaggio No per quanto riguarda ripescaggio non ci sono problemi perché noi già ci siamo informati e siamo dei primi in Italia quindi ci sono tutte le carte regole per poter essere ripescati perché abbiamo tutti i merdi abbiamo un settore giovanile abbiamo il campo senza barriera non abbiamo mai ricevuto avvertenze e tante altre belle cose e l'importante è che il nostro bravissimo presidente e tutta la famiglia con la Hitz restano a darci una mano altrimenti sarà difficile poterci organizzare nel momento in cui abbiamo fatto faremo questi chiarimenti in società sicuramente noi andremo a fare il ripescaggio anche se con la Hitz vogliono fortemente che la squadra resta in Serie D però se non c'è la loro mano difficilmente si potrà andare avanti io mi auguro io mi auguro veramente da sportivo innamorato di quello che faccio ma innamorato soprattutto del mio paese perché io non mi stancherò mai di dire che Agnone oramai non è più famoso per le campane o per il mangiare il bene ma è famoso anche soprattutto per il caldo io ho avuto centinaia di messaggi e di attestati di andare avanti perché ci vogliono tutti in quanto siamo delle persone serie per beni e siamo una società ben fatta che non ha debiti e non ha vertenze quindi mi auguro che con questo mi appello altre persone sul vento di una società perché Agnone se ci togliamo pure il calcio ahimè è finita stanno chiudendo un po' tutto speriamo di no e da questa emittente faccio un appello a tutto affinché si stringano tutto intorno a questo piccolo giocattolo cercando di eliminare quelle polemiche e polemicucci che non fanno bene al calcio ognuno di noi ha subito e subirà qualche diciamo piccola discusione ma è la vita la vita è fatta così bisogna affrontarla e andare avanti e avere un unico obiettivo fare il bene dei nostri figli e soprattutto fare il bene della nostra città oggi pomeriggio a partire dalle 18.30 workshop al centro M2 di Campo di Pietra con focus sull'importanza della meditazione per restare sempre in forma domani alle 17.30 sempre presso il centro sportivo M2 si parlerà di nutrizione e gli effetti del cibo sulle prestazioni di corpo e mente per migliorare le funzioni cognitive l'umore e raggiungere il benessere in ogni campo mountain bike la Molise tour bike ha preso parte alla marathon degli stazzi valida come prova del campionato dei sentieri del sole e dei saponi Paolo Bettini terzo posto tra gli M3 nel percorso marathon Giuseppe Gennarelli nel tracciato gran fondo ha chiuso al sesto posto assoluto e secondo di categoria M1 sempre nel percorso gran fondo terzo posto anche per Luca De Lucia e Lino Cardillo nelle categorie ELMT ed M8 torniamo a parlare di calcio a 5 protagonista del torneo regionale di serie C il Frosolone già programma il futuro Presidente Domenico Di Giorio allora ci si ritrova per una cena di fine stagione una stagione che diciamo fino ai playoff vi ha soddisfatto poi siete stati eliminati per mano del Venafro che tipo di bilancio fa lei? Questa sera siamo qui a festeggiare per ritrovarci tutti insieme la squadra insieme ai tanti amici come te ringrazio Tele Molise che ha avuto questa opportunità per farci dare tante visibilità comunque è una squadra che ha lottato dall'inizio fino alla fine i programmi della società non erano quelli di arrivare dalle prime comunque ci abbiamo credito dall'inizio e il discorso è andato portato avanti questa squadra con tanti sacrifici come tu sai benissimo però l'intento era quello di fare un campionato di media classifica poi andando avanti anche con qualche defensa che qualche ragazzo si è fatto male siamo stati anche sfortunati con la partita del cerce maggiore che ha tirato fuori un ragazzo e quindi ci ha messo in difficoltà comunque dopo c'è stata una ripresa e i ragazzi devo ringraziare veramente anche i due Hunter che sono stati bravi sono stati anche convocati dal rappresentativa regionale e quindi secondo me questi ragazzi possono fare per programmare per il futuro ecco a proposito del futuro ho detto al tecnico forse è presto lui mi ha detto no presto non direi quindi evidentemente sia lei che l'allenatore Nicola Pette già ci state pensando al Frosolone Calcio a 5 che sarà nel prossimo campionato di Serie C1 che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro ma noi adesso ci dobbiamo riunire vedere un po' di programmare per il futuro sicuramente la squadra sarà iscritta al campionato di C1 questo lo posso garantire certo devo vedere un po' la rosa dei giocatori che adesso è un po' carente bisogna trovare dei ragazzi bisogna impegnarsi prima di tutto perché il campionato l'anno scorso è iniziato così e ci siamo tolti qualche situazione devo ringraziare di nuovo di questi ragazzi che ci hanno dato il massimo e siamo arrivati ai playoff i playoff comunque sono partite secche tu sai è stata una partita giocata a penafro poi siamo stati sfortunati perché se avessimo rubato un punto che ci è mancato potevamo incontrare una squadra più debole e quindi ce la potiamo giocare accettiamo la sconfitta perché è un campo ostico il venafro già è stato in questa categoria quindi aveva delle chance in più va bene allora cerchiamo di aspettarci se possibile un Frosolone più ambizioso fermo restando che il campionato che avete fatto da neopromossa in Serie C1 è stato assolutamente rispettabile apprezzabile perché siete arrivati appunto come diceva lei nei playoff che non era proprio una cosa scontata no scontata non lo era comunque ci siamo arrivati e questo è merito veramente dei ragazzi non solo della società ma dei ragazzi che hanno dato il massimo per arrivare a questo obiettivo adesso vediamo un po' di creare questo gruppo nuovo con inserimento per qualche elemento di spessore adesso è tutto prematuro non posso anticipare a giorni tra 15-20 giorni perché bisogna anche programmare le cose non si può arrivare agosto-settembre quando le squadre sono già state allestite quindi i giocatori vengono già impegnati se c'è qualche elemento disponibile io cercherò di prenderlo bodybuilding a Rimini si è svolto il campionato italiano dell'associazione italiana naturali bodybuilding nella categoria men's physique juniors il molisano Aurelio Boccardo ha chiuso al sesto posto venerdì al Palau in programma la quarta edizione del Memorial Erika Ciaramella in campo gli studenti dell'istituto Colozza di Campobasso una mattinata di musica danza e sport con il torneo di calcio a 5 che avrà inizio alle 9.30 calcio d'eccellenza e il Roseto vera e propria rivelazione del campionato di quest'anno Antonio Giurlia si interrompe il sogno del Roseto di toccare la finale playoff di eccellenza per raggiungere la Serie D dopo la doppia partita contro Agropoli che cosa le rimane? Rimane il fatto che bisogna fare i complimenti innanzitutto ai miei ragazzi per questa doppia partita e per tutto il campionato complimenti all'agropoli che è una signora squadra e per come è andata la gara c'è il rammarico di non averla chiusa con quell'azione che si avrebbe portata al secondo collo staremmo parlando di un'altra cosa Edoardo Colucci del Roseto finisce qui l'avventura del Roseto nei playoff interregionali direi a testa alta è una sconfitta anche se al 97esimo violato il vostro campo da parte dell'agropoli avete onorato il calcio entrambe le squadre finisce qui la nostra avventura di quest'anno noi abbiamo dato il massimo abbiamo fatto veramente cose incredibili quest'anno e questa sarebbe stata diciamo la cileggina sulla torta però siamo contenti così e prendere gol al 97esimo non ci è cambiato niente perché pure l'1-1 comunque saremmo saremmo usciti però sono orgoglioso di questa squadra di questo gruppo vi siete elevati molte soddisfazioni credo che alla fine siete stati proprio voi in eccellenza Molisana l'antivasto Girardi per il futuro credo che non vada toccato nulla di questo gruppo noi penso proprio che la nostra qualità di quest'anno è stato proprio il gruppo siamo stati veramente tutti uniti molti di noi ci conosciamo da tanto tempo e poi come hai detto tu la nostra fortezza è questo campo noi o perché ci siamo abituati o perché ci danno la spinta i nostri tifosi ma in casa veramente siamo duri da battere l'abbiamo dimostrato con il vasto Girardi e con tante altre squadre ce lo siamo costruiti qui questo cammino fino all'agropoli il Macchiaval Fortore ha vinto i playoff del Girone B di prima categoria Fabio Giorgio allenatore del Macchiaval Fortore dunque innanzitutto complimenti per questa vittoria perché non era facile battere il quartiere nord a casa sua ma soprattutto ti faccio i complimenti perché ho visto una squadra organizzata una squadra che si è difesa bene davvero complimenti a mio modo di vedere avete meritato questo successo ti ringrazio e i complimenti come tu sai perché sei un gran calciatore anche tu vanno soprattutto ai ragazzi che sono stati bravissimi e riescono sempre ad essere organizzati ad ascoltare e insomma a sopportarmi durante tutto l'anno assolutamente diciamo che non ti emozionare non ti emozionare ci sta ci sta l'emozione è anche un po' di gioia diciamo che con un gruppo praticamente tutto di Macchiaval Fortore avete praticamente giocato un campionato quasi sempre da secondi poi nel finale è arrivato questo terzo posto però voglio dire questa è anche una grossa soddisfazione per voi assolutamente tutti di Macchiaval Fortore direi quasi tutti di Macchiaval Fortore perché ci sono anche due ragazzi di Carlantino e due ragazzi di anzi poi si è aggiunto anche il terzo di Carlantino più il portiere e due ragazzi di Pietragatella che ci hanno dato anche loro una grossa mano purtroppo un elemento importante ci ha lasciato all'inizio di campionato nel senso che si è infortunato e abbiamo avuto delle grosse difficoltà perché è stata una grossa perdita e vabbè comunque complimenti davvero ai ragazzi e questo è tutti bravi ma se mi permetti l'asse centrale con Cinelli e Diorio e Coccaro sono stati davvero superlativi l'asse l'asse centrale tra centrocampo e i due difensori centrali Cinelli è un esterno sì ci sta numero 4 sì Stefano Cifelli 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 sì certo abbiamo una squadra sono veramente tutti bravi 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 è un po' di tempo che giocano a calcio hanno fatto hanno militato anche nel campionato di promozione negli anni passati e quindi io ho preso un gruppo che già conoscevo bene perché qualche anno fa ci avevo giocato insieme quindi per me è stato molto semplice adeguarmi un po' e farli adeguare ai miei pensieri e però sono veramente cioè non saprei dirti effettivamente chi è migliore di un altro ma sono veramente tutti bravi nulla una chiosa finale in primis su questo ragazzo di colore che importa davvero ci ha sorpreso tutti io non lo conoscevo ma davvero bravissimo e poi ho anche un ringraziamento al presidente Durante che è stato emozionante nel finale sì questo ragazzo è stata una fortuna trovarlo eravamo partiti all'inizio di campionato purtroppo anche quest'anno senza portiere poi dal nulla è venuto fuori questo ragazzo che abita nella struttura di Carlantino è venuto con i ragazzi di Carlantino è veramente un ragazzo d'oro sia per ciò che riguarda il comportamento sa stare in mezzo a noi insomma si è integrato benissimo e come hai potuto vedere oggi ci ha salvato anche la partita cioè molto spesso capita che fai interventi molto importanti e quando hai un portiere con queste caratteristiche è una difesa così quadrata riesci benissimo a prendere pochi gol e quindi a gestire le partite meglio e a fare risultato anche come quello di oggi 1-0 giocato contro una squadra molto forte io conoscevo tutti quanti gli avversari sono degli avversari che come sai benissimo anche tu hanno militato in campionati di categoria superiore e quindi è una grossissima soddisfazione anzi ancora più proprio perché aver vinto come dicevi all'inizio a casa del Campobasso del Cibi Nord con quegli elementi è una grandissima soddisfazione tornei estivi a fine mese via alla quinta edizione del torneo comune di Ripalimosani aperte le iscrizioni per formare i due gironi novità di quest'anno di quest'anno di questa edizione l'inserimento di un torneo femminile di calcio a otto e sabato il Camposturzo di Campobasso ospiterà il quadrangolare in ricordo di Mario Pistilli professore di educazione fisica in campo dalle 15 gli amici colleghi gli amici di calcetto e gli ex alunni bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio